Cantù, che ha preso Devon Jefferson, entra ufficialmente nel mirino della Scandone Avellino. Per il club di Via Zoccolari è partito il conto alla rovescia. I bianco-verdi sabato esordiranno in campionato. La Sidigas aprirà il 97esimo torneo della Lega Basket. Un match sulla carta agevole, ma attenzione, perché i pericoli sono dietro l'angolo. Solo oggi la formazione avellinese ha iniziato per davvero gli allenamenti. Nella giornata di martedì, infatti, lo staff tecnico del preparatore atletico Domenico Papa hanno voluto concedere ai cestissibili anche via di una mezza giornata di riposo. Oltre alla seduta di pesi e tiro, i tesserati hanno potuto rifiatare. L'unico a lavorare duramente è Luca Campani. Oggi si vedrà se il cestista reggiano rientrerà in gruppo a Pino Regime. La pre-season è stata davvero intensa. Tante partite e tanti spostamenti per la compagine cara a padron Gianandrea De Cesare, ormai sport addicted, come direbbero gli americani. La stagione regolare sarà molto più intensa e vedrà la squadra avellinese giocare praticamente 4 gare in trasferta nei primi 15 giorni. Dopo il match di Pistoia ci sarà la trasferta di Coppa, poi Cremona, quindi nuovamente in trasferta in Germania contro il Lundisburg.